alvaruccio possibile che tu stai sempre a dormire avanti svegliati svegliati aiuto 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 capitano tutte a lui qualcuno mi faccia scendere perché mi hai svegliato stavo facendo un sogno un sacco gagliardo pallino diventerai una scimmia se continui a dormire così quale quella che dorme sempre esatto e guarda come stai male con il corpo da scimmia io non voglio diventare così allora devi fare un po di movimento con quei palleggi mi cala pure la panza il calcio va bene per fare il movimento e io sono pronto allora hai detto devi dare un calcio a quella palla ok io ora ti faccio vedere quello che soffari che succede stavolta andrà tutto ok ancora ma che ti ridi meglio guardare se c'è qualcuno in giro via ma che strano eri scappata insomma vuoi stare un attimo ferma che ti devo dare un calcio tieni 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 certo che l'alvaruccio palleggia abbastanza benino ho l'impressione di andare in discesa aiuto giocare a calcio è la cosa migliore per far del movimento hai proprio ragione beh aspetti a tirare ok olè olè evviva stavolta farò un col e stavolta però ritiro fuori eh stiro stiro fichissimo attento garuccio bravo ma chi era? un paio di scarpe del cavallo dinamite ora ti eserciterai nei colpi di testa colpi di testa guarda bene come si fanno oh e sono dei campioni vero? anche la capretta le brava nei colpi di testa davvero? allì brava niente male come tio che potenza ragazzi ecco un altro che le molto bravo nei colpi di testa allì maremma saresti potuto diventare un campione senza quel corno ma è venuta un'idea strafica guarda guarda come sono diventato bravo eh Camilla guarda un pochetto va bene ci guardo pronti? ai posti via mi stai guardando Camilla? non guardarmi più sono diventato forte a palleggiare con la capoccia peccato che tu non puoi giocare io volevo giocare ok Rambo gioco con te ma che fai? nel calcio non si prende mai la palla con le mani? dopla vale vale ora che so palleggiare di testa dare calcio al pallone sarà uno scherzo alcune volte le cose sembrano più facili di quel che sono guarda che tiri bobbia bobbia alì 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 mamma mia ssss ahah 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 Mi sento un campione, ho fatto sempre gol Ehi, ma c'è ancora un pallone, Gagliardo! Posso tirare un'altra delle mie super cannonati O che tu fai, Cidrullo? Un pallone con la voce di Camilla Ehi, ma quella è Camilla! Niente panico, gnappetta, ora, ora mi salvo Salva! Ma, ma dov'è finita Camilla e il suo guscio volante? Il polpo dice che son sua prigioniera Le dispiacerebbe liberare l'amica mia? No Ho capito, con lei la gentilezza non serve proprio a niente Oh, no! Ehi, cento zampi, aspettami! Sei tuffato, vengo a salvarti Camilla! Chissà dove l'avrà portata Camilla! Piano, piano pallini, piano che mi fanno venire in mer di mare Aiuto! Hai dei Cidrulli! Aiuto! Alvaruccio! Alvaruccio! Non è qua! Camilla! Camilla è diventata del tricolore! Che esperienza maremmosa! Che sport movimentato! Su, ricominciamo l'allenamento! È meglio che cominci tu, Alvaruccio! Pronti? Ai posti? Non sono mica un nuovo, eh? Lasciami in pace, per favore! Opa! Alì! Forse l'è meglio che lasci perdere il calcio Ok, Gnappetta, però prima voglio tirare un'ultima supercannonata Alì! Questa è l'ultima buccia! È l'ultima buccia! Esatto! Aiuto! Aiuto, verrà! Aiuto! Ho la strana impressione che questi vogliono giocare a pallone con noi! Aiuto! No!